Ciao, sono Michele, vengo dalla Sardegna, diciamo che sono venuto qui per curiosità con mia moglie, la quale doveva fare un lavoretto e dopodiché ho deciso di fare tutta la bocca perché avevo già speso un bel po' di soldini con i dentisti e quindi ero arrivato al punto che avevo la dentiera vergognandomi di aprire la bocca e di non riuscire poi a mangiare e a masticare tutto per benino, di conseguenza dopo che sono venuto qui ho preso la decisione e ho fatto tutto. Ho trovato una bella organizzazione, la verità, e questo lo devo dire perché insomma una organizzazione a questo livello bisogna arrivarci col tempo e con l'esperienza. Mi sono trovato bene, l'importante è che uno dopo gli interventi riesca a stare bene fisicamente e dopodiché fila tutto liscio. Mi sono trovato bene anche con i denti diciamo così provvisori e volevo addirittura tenerli, non volevo venire a mettere questi. Ho trovato disponibilità con tutti i dottori, infermieri, impiegati, tutto quello che concerne l'organizzazione. La verità è cambiato anche l'umore e la sicurezza nel parlare, nel sorridere, nello scherzare con la bocca aperta. Me li sento miei perché sono miei. Adesso speriamo di stare tranquilli e sereni e quanto pare sono venuti bene. Torniamo nella nostra isoletta in mezzo al sole.